Dal Vangelo secondo Luca Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite, pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, edite loro, è vicino a voi, il regno di Dio.